Ancora una volta ho il piacere di fare a tutti quanti voi i migliori auguri per queste feste natalizie e per l'anno nuovo che sta per approssimarsi. Il tempo che stiamo vivendo impone a tutti quanti noi una riflessione ad alta voce. Martin Luther King, di cui quest'anno ricorrerà il 50esimo anniversario della morte, ci spronava ad ardentemente scoprire a cosa siamo chiamati a fare e poi ci diceva Martin Luther King, mettetevi a farlo appassionatamente, siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa sarete. Questa frase racchiude un po' la sintesi della nostra attività di amministrazione comunale. Il tempo che abbiamo a disposizione ci dice che dovremmo continuare ad impegnarci ancora di più, con maggiore dedizione, con maggiore impegno e con maggiore amore verso questa città. Nella consapevolezza che ci aspettano tempi difficili, scelte difficili e sicuramente impegnative, ma cercheremo di affrontare tutto questo facendo sempre il meglio di quello che siamo capaci di fare e abbiamo la spinta giusta per farlo, per farlo insieme a voi e per voi. Con voi voglio coltivare la speranza, la speranza tiene in piedi la vita, la protegge, la custodisce e la fa crescere. Diceva ancora Martin Luther King, anche se avrò aiutato una sola persona a sperare, non avrò vissuto in vano. La missione quindi è quella di aiutare la comunità sansalvese, volenterosa e quantomai laboriosa, a crescere nella speranza di un domani migliore. C'è ancora molto da fare, ma sono certa che con il contributo di tutti si possa ancora fare grandi cose, grandi passi e tutto questo sarà possibile solo se li faremo insieme. Auguri di cuore a tutti!